Buongiorno a tutti i giorni, come state? Stanno preparando... Bravissimi, grazie per quello che fate, anche lei, onorevole. C'è la commissione di affari sociali. Poi gli altri volontari stanno qui, qui si sono dicendo, se in un attimo si dicono quali sono le esigenze. Mi auguro a mente una presenza simbologica, l'obiettivo è semplicissimo, quello innanzitutto di ringraziare voi, che in attualità fate questo lavoro per aiutare le persone che hanno più difficoltà in questo momento a Roma e in tanti punti, non è come tu non ci ricordavi. E se mi permettete, attraverso voi, di ringraziare anche tutti i volontari che diverse organizzazioni, la Croce Rossa, la Caritas, tanti localismi di volontariato civile e religioso, che non ci ricordavi. Grazie. Grazie. Grazie.